Buongiorno a tutti ragazzi, nel podcast di oggi analizziamo quello che è successo venerdì perché sono successe dinamiche di mercato interessanti che vanno un po' analizzate, alcune più chiare, alcune meno chiare. Allora cerchiamo un attimo di fare un po' di chiarezza. Allora diciamo che la situazione geopolitica si è notevolmente aggravata, nel weekend è stata tranquilla, ma nella giornata di venerdì si è notevolmente aggravata e ha fatto fare uno spike di forza molto importante al gold e al silver, ma focalizziamoci sul gold. Il gold vive di due anime, un'anima di bene rifugio e un'anima di prodotto che funziona molto bene quando le banche centrali adottano una politica fortemente espansiva. Quindi da una parte ci troviamo in un quadro intermarket non favorevole, perché se ci sono dei bond che rendono il 5-6%, mi compro un bond e non mi compro il gold. Però se invece dall'altra parte la situazione diventa molto pericolosa dal punto di vista geopolitico, viene comprato gold. Venerdì c'è stata una prevalenza di paura rispetto al quadro intermarket e dal punto di vista del quadro tecnico, mentre il gold era inserito in un quadro discendente, adesso ha provato a dare un colpo di testa cercando di rompere la resistenza, cosa che non ha ancora fatto. Quindi la prima cosa che dobbiamo vedere è se la romperà o non la romperà. Allora, dal punto di vista Fabio, io non sono favorevole a comprare il gold, fra i due preferisco comprare il silver, perché? Perché nel caso in cui la Cina, cosa che prima o poi mi aspetto, riprenderà energia, il silver insieme al copper saranno fortemente comprati. E in più il silver è a metà anche un bene rifugio, quindi il silver è per metà bene rifugio e per metà materiale industriale. Quindi mi sembra che a livello di rapporto rischio-rendimento possa essere più interessante il silver. Quindi in generale però la situazione dei metalli preziosi va analizzata insieme alla situazione del petrolio per capire se la situazione guerra scappa di mano. Perché questa è una situazione che può inevitabilmente cambiare tutto il quadro intermarket. Questa situazione qua ha portato negatività sui listini con maggiore forza rispetto al Nasdaq, che era quello che aveva sovraperformato di più, per un semplice motivo di ribilanciamento. Il più debole è il Russell, poi abbiamo il Nasdaq e le S&P 500 che più o meno sono uguali, il DAX, idem come sopra. Quindi questa è più o meno la situazione a cui ci troviamo di fronte. La cosa particolarmente interessante è stata i forti acquisti che sono arrivati sui telegiorni medicani. In particolare sulle scadenze lunghe sono arrivati dei forti acquisti che potrebbero far pensare a una sorta di safe haven. Come è stato comprato il gold sono stati comprati anche i treasury. Questo lascia un po' interdetto, il sottoscritto per esempio, mi lascia un po' così perplesso perché mi sembra più una misura di protezione di una situazione che stava scappando di mano piuttosto che degli acquisti che possono perdurare nel tempo. Anche perché se la guerra scappa di mano e il pezzo del petrolio continua a salire, inevitabilmente l'inflazione continuerà a salire e i rendimenti dovranno continuare a salire. È anche vero che potrebbe esserci un altro scenario che sto cercando di... ho messo sul piatto e adesso vedremo nelle prossime sessioni che cosa succederà, potrebbe esserci finalmente anche un altro elemento che è mancato in questi mercati, una decorrelazione. Cioè nel passato c'è sempre stata una decorrelazione tra mercati azionari e mercati obbligazionari, mentre oggi è uguale. Cioè scendono i prezzi dei bond, scendono i mercati azionari. In passato non è stato così. In passato c'era un momento in cui si compravano solo bond e un momento in cui si compravano solo azioni. Quindi potrebbe succedere che ci sia una decorrelazione? Chi lo sa? Vediamo, vediamo. Questo potrebbe essere un elemento. Se ci fosse questo secondo scenario, cioè il scenario della decorrelazione, vorrebbe dire che i rendimenti nel breve termine verrebbero schiacciati, quindi verrebbero a scendere per una grande paura, mentre l'azionario comincerebbe a crollare in maniera forte e violenta. Quindi vedremo rendimenti scendere in maniera forte e violenta, azionario scendere in maniera forte e violenta, a quel punto potrebbe essere interessante comprare velocemente azionario se si vengono raggiunti livelli interessanti e poi comprare invece in un secondo tempo nuovamente bond. Vediamo, vediamo perché fino a un po' di anni ultimamente che c'è questa decorrelazione, quindi solitamente questi cambi di correlazione sono difficili che avvengano così velocemente, però tutto può succedere. Diciamo che quello che ho visto venerdì sono stati un po' di movimenti irrazionali, cioè ho paura, ho paura, cosa faccio? Mi compro il gold, mi compro il treasury, come due safe haven. Stessa cosa ovviamente per il dollaro americano. Io credo di più ai movimenti che durano da più tempo e che sono ragionati piuttosto di quelli di paura. Vediamo quello che accade. Secondo me questa settimana qua sarà una settimana interessante per vedere un po' l'andamento. Sono cominciato ad uscire delle trimestrali, sono uscite le trimestrali di alcune banche, sono andate molto bene e le banche si sono comportate bene nonostante i ritracciamenti hanno comunque mantenuto i guadagni. West Fargo un po' meglio, JP Morgan un po' meno, ma in generale il settore bancario americano sta andando ancora bene. Altro elemento da prendere in considerazione, a mio avviso, è l'elemento VIX, quindi la volatilità, perché la volatilità è per la terza volta che tocca i 20. e bussa una volta, bussa due, bussa tre, la probabilità che venga rotta a rialzo a questo livello è molto elevato e come già detto in passato, se la volatilità dovesse salire, molti fondi saranno costretti a vendere e quindi aumentare ulteriormente la volatilità e incrementare una sorta di effetto valanga. Infatti come curiosità vi ho postato il CBOE, che è il grafico dell'azienda che gestisce di fatto il mercato delle opzioni. È interessante vedere che in un mercato negativo questa azione sta facendo molto bene, ma perché? Potrebbe essere che il fatto che ci sia un aumento della volatilità, quindi un maggior utilizzo delle opzioni, faccia dire agli investitori che questo mercato potrebbe essere interessante. Quindi come spunto un po' fuori dalle righe, il fatto che un'azione che tratta fondamentalmente la volatilità stia facendo così bene e vedendo che la volatilità ha toccato per tre volte i 20, è probabile che il mercato si attenda un incremento di volatilità aggiuntiva, che quindi potrebbe far guadagnare maggiormente il CBOE e quindi salire ancora le azioni. Però al di là della singola azione, che può anche essere cavalcata ovviamente in termini speculativi, è più uno spunto di riflessione di insieme, dove ci attendono periodi di volatilità in aumento. Cosa si fa quando la volatilità aumenta? Allora, solitamente si utilizzano meno soldi, ovviamente molte persone quando aumentano la volatilità mettono più soldi perché pensano nella loro mente di farne di più. In realtà se uno vuole fare una corretta gestione del rischio, deve ridurre la volatilità, perché se la volatilità è maggiore, io ho bisogno di meno soldi rispetto a prima per guadagnare, ma al contempo mantengo basso il rischio. Questa ve lo do come pillola formativa. Mi mando un grande abbraccio, un grande saluto e a breve arriviamo con i portafogli questa settimana. Quindi vi potete registrare, possiamo partecipare. Ci abbiamo messo un po', ma abbiamo cercato di fare una cosa carina e quindi abbiamo investito un po' più di tempo sulla preparazione. Vi mando un grande abbraccio, ciao ragazzi!